Italiano. Megatere, impressionanti giganti gentili visitano le calde acque di El Salvador. Come salvadoregni, abbiamo la fortuna di assistere alla maestosa presenza delle megatere che abbelliscono le nostre acque calde. I mesi da dicembre a marzo segnano l'arrivo di queste magnifiche creature, uno dei luoghi migliori per avvistarle è all'interno dell'area marina portata di Los Cobanos. Il villaggio di pescatori artigianali di Los Cobanos ospita questo spettacolo annuale. Qui, sullo sfondo di condizioni rociose simili a barriere coralline, questi giganti gentili fanno la loro comparsa. Coprendo una vasta area di 195 chilometri quadrati o 75 miglia quadrate, l'Amplos Cobanos è un gioiello unico in El Salvador. Le sue acque si estendono fino a 6,77 miglia nautiche dalla costa. Raggiungendo una profondità di 50 metri o 165 piedi. Spinto dalla passione per un turismo sicuro ed efficiente per il benessere dei pescatori locali, ho intrapreso un progetto indipendente per promuovere l'osservazione delle balene. L'obiettivo era non solo quello di osservare queste maestose creature, ma anche di mostrare ai pescatori che questa impresa può essere economicamente gratificante. Anche se forse non sono stato il primo a introdurre questo concetto in El Salvador, è diventato sempre più vitale. Le sfide della pesca tradizionale crescono ogni giorno, con la diminuzione delle catture vicino alla costa che porta a costi più elevati del carburante, maggiori rischi, più attrezzature da pesca e una maggiore pressione finanziaria sui pescatori. Sarò sempre grato all'ex vice. Ministro dell'Ambiente, dottore Angeli Barra, attore dietro le quinte e merita tutto il merito di questo progetto. Lo riassumo in una parola, fiducia. Chiunque altro affermi il successo dalla sua parte non conosce la verità. Le ragioni esatte per cui le megattere prediligono questa particolare area rimangono un mistero. Anche se c'è un altro posto nella parte orientale di El Salvador che potrebbe sembrare più adatto, sono le condizioni uniche della barriera rocciosa di Los Cobanos e esercitare un fascino speciale su queste balene e i loro piccoli. Nella nostra ricerca per svelare questo mistero, ho condiviso i dati con altri ricercatori, incluso la professoressa Nicola Ransome, che guida un progetto in corso nello stato messicano di Nayarit. Mettendo insieme dati e avvistamenti, speriamo. Di far luce sull'affascinante presenza delle megattere nelle nostre calde acque. Unisciti a noi mentre esploriamo i misteri di questi impressionanti giganti gentili e celebriamo la meraviglia che portano sulla costa di El Salvador. Ciao.